Sia lodato Gesù Cristo La legge dell'amore che Gesù promulga è una legge molto radicale ed è sicuramente anche una innovazione in quello che è la tradizione, il comandamento dell'Antico Testamento. Non per niente Gesù quando parla della sua legge dice vi è stato detto me io vi dico dove non si contraddice la legge passato, l'amore del prossimo ma nell'Antico Testamento l'amore del prossimo e i comandamenti erano limitati perlomeno erano interpretati come l'amore all'interno della comunità, i fratelli cioè all'interno del popolo di Israele. C'è, sappiamo molto bene, una progressione pedagogica nell'insegnamento e nella rivelazione da parte di Dio con il suo popolo con delle punte che invece anticipano profeticamente quello che Gesù dirà e farà per cui il concetto di amore di Dio e amore del prossimo come fondamento di tutta la legge era già conosciuto e Gesù quindi non dice in questo nulla di nuovo ma il suo insegnamento coscientemente contiene cose nuove perché dice vi è stato detto occhio per occhio, dente per dente ma io vi dico non opponetevi al malvagio porgete l'altra guancia vi è stato detto non o dirà il tuo fratello o dirà il nemico ma io vi dico amate i vostri nemici ora questa estensione universale non è semplicemente una solidarietà generica verso tutti ma è un superamento della barriera di appartenenza barriera di appartenenza che ha segnato e deve e doveva segnare il popolo di Israele per cui all'interno della comunità all'interno del popolo i rapporti dovranno essere esemplarmente secondo la legge di Dio e il popolo di Israele si opponeva a quello che era tutto il resto del mondo noi e gli altri perché noi abbiamo la legge di Dio gli altri non ce l'hanno noi abbiamo la rivelazione di Dio gli altri non la possiedono per cui noi siamo il suo popolo privilegiato popolo di sua conquista popolo che gli ama popolo infedele ma che continua ad accudire così come una chioccia stende le sue ali e i suoi pulcini questa differenza dunque di Gesù di amare i nemici non è semplicemente una estensione orizzontale ma è un superamento della barriera dell'amore legata al popolo perché è ovvio che anche all'interno del prossimo e del fratello e questo è il senso proprio di appartenenza al gruppo anche all'interno di queste relazioni pur facendo parte del popolo santo di Dio per la nostra natura possono nascere di sapori, di sì, di contrasti odi, invidie, gelosie, vendette e omicidi dunque la legge dell'amore che Gesù prescrive è una legge che si attua sempre dentro al popolo di Dio ma anche applicato a chi è fuori quindi la legge dell'amore è data da Gesù non perché Israele abbia già ottenuto degli ottimi risultati all'interno del popolo quindi all'interno del popolo di Israele potremmo dire tutto va bene tutti si amano in realtà non è così ma proprio perché la visione del Cristo è la salvezza della totalità di tutti gli uomini perché tutti gli uomini appartengono a Dio e la fegnalità del popolo santo di Israele è quella di santificare tutti i popoli del mondo quindi far conoscere le realtà divine rivelate a lui ma destinate a tutti gli uomini dunque la domanda che veniva fatta Gesù era insidiosa ma chi è dunque il mio prossimo? distinguiamo il mio prossimo è il parente il mio vicino o è anche qualcuno che non appartiene al popolo di Dio o che si oppone alla legge di Dio come ad esempio i samaritani o altri che sembrano essere i nostri ma non lo sono è come dire se uno di noi si comporta male diventa qualcosa di diverso del prossimo perché giustizia vuole che il prossimo non non si identifichi più con chi si pone fuori dalla legge di Dio mentre invece per prossimo il Cristo intende anche coloro che non conoscono o sono contrari alla legge di Dio e amore non significa che la giustizia viene messa da parte la giustizia viene riservata da Dio e l'amore del prossimo si esprime con quello che è l'insegnamento l'avvertimento di quelle che sono gli errori le difficoltà i peccati del prossimo ma per amore e non per separazione vendetta repulsione l'amore vuol dire mi interessa il tuo destino di eternità mi interessa la salvezza della tua anima della tua persona mi stai a cuore dunque ti parlo non ti accuso perché tu non fai parte del mio cuore questo tipo di amore è chiaramente un amore spirituale che l'uomo di per sé non possiede se non con quel grande dono che viene dato da Gesù con il dono dello spirito il paracleto il consolatore dopo la pentecoste c'è il grande dono di avere in sé la legge dell'amore che vive nel cuore e dunque da sé promana il bene verso gli altri senza quasi bisogno di avere davanti a sé dei comandamenti per capire che cosa bisogna fare il bene dell'altro prevale su ogni cosa il bene dell'altro non vuol dire che ciò che fa se è sbagliato diventa buono ma la finalità si pospone con un obiettivo un orizzonte molto più ampio educativo così come si fa con i fanciulli i bambini e la giovane età dove l'aspetto educativo guarda un orizzonte che è distante per cui si pazienta ma si continua ad insegnare perché l'obiettivo è l'introiezione della norma e noi diciamo l'introiezione cosciente dello Spirito Santo che diventa norma interiore nel momento in cui volontariamente lo si acquisisce lo si trattiene lo si matura lo si sviluppa e si dà questo seguito dando così gloria a Dio Dio vi benedica